Di norma vi direi Aufidesen, ma dato che il significato di Aufidesen è a rivederci, e dato che non ho intenzione di rivedervi più, signore, vi dico addio e basta. Andiamo. Vieni. Ancora un momento, dottore. Dottore, che c'è? È usanza qui nel sud, quando viene concluso un affare tra le due parti. Darsi la mano, in segno di buona fede. Io non sono del sud. Ma voi siete nella mia casa, dottore. Quindi temo di dover insistere. Insistere? Su cosa? Che vi dia la mano. Oh, allora temo di dover insistere nella direzione opposta. Sapete cosa penso di voi? Cosa pensate di me? No, non lo so. Penso che siate un pessimo perdente. E io penso che siate un infimo vincente. Ciò non di meno. Qui a Chicago County non si chiude un affare finché le due parti non si danno la mano. Firme scartoffie non contano un cazzo se voi non mi date la mano. Se io non vi do la mano, buttate via dodicimila dollari. Io non credo. Mister Pooch, se quella cerca di andare via prima che questo tedesco leccanegri mi abbia dato la mano, abbattila la cagna. Sul serio volete che vi dia la mano? Insisto. Ma se proprio insistete. Nooo, Calvin! Calvin! Scusate, non ho saputo resistere. È dentro il partito! È dentro! È dentro del marzo mio!